Volutamente sono un personaggio che aleggia intorno a questi bambini e soprattutto al personaggio di mio figlio, di Valerio, che è interpretato da Mattia Garaci. Volutamente è un personaggio che si palesa, ha un peso nella presenza anche emotiva di questo bambino. Per me era importante non ingombrare e non lo volevo fare, tra l'altro nella doppia veste dico produttore e attore, quindi forse sarebbe stato anche più complicato invece se fossi stato al centro, però non la sento assolutamente come una mancanza, anzi come un più. Ti ringrazio della cosa che dici perché è esattamente così, il desiderio di raccontare non quegli anni, ma quegli anni visti dall'infanzia, dove tutto è possibile, dove la favola, l'onirico, la fantasia prendono strade che sono difficili da prevedere e che secondo me Claudio Noce è riuscito a raccontare molto bene. È stato un lavoro enorme da un punto di vista emotivo, quindi mi viene da dire non solo come regista e cineasta, ma proprio come uomo. È vero, il punto di vista è quello, fino a un certo punto in maniera molto rigorosa. Poi il film apre ad altri punti di vista, apre dal punto di vista del padre e poi c'è un momento di respiro anche dall'altra parte del personaggio di Christian. È stato un percorso molto faticoso, però in realtà l'idea di raccontare un film dove c'è il superamento della paura attraverso un percorso e quindi anche attraverso dei passaggi, mi viene da dire, sentimentali. E' un po' quello che è successo a me mentre lo facevo, quindi quello che succede ai personaggi in campo, a Valerio, al padre, Alfonso e a Christian in qualche modo è quello che è successo a me, che sta succedendo a me, che mi sta succedendo in queste ore, che sta finalmente nascendo il film. Sono molto contento del fatto che stai citando quella scena, è una cosa che probabilmente abbiamo fatto tutti. In realtà l'idea era proprio trovare, da un punto di vista proprio di linguaggio formale, il modo per realizzarla. In realtà l'ha girata lui, la scena praticamente, era con la macchina da presa in braccio. E in realtà, ecco, punto, proprio quello che tu dici, quanto di più intimo che il proprio linguaggio che abbiamo usato in quella scena. Cioè il padre con in braccio un figlio che percepisce, però probabilmente non ammette neanche a se stesso il fatto che in quel momento c'è una vicinanza, non so se ti ricordi quando salgono le scale, c'è un momento in cui Valerio apre gli occhi e quello è un momento che a me mi emoziona molto, perché era proprio quello che facevo, cioè era controllarlo, vederlo, guardarlo. E anche il momento in cui lo metto nel letto. Mio padre è un uomo, ancora c'è, è molto forte, gestisce le emozioni in maniera molto moderata, però io mi ricordo questa cosa del rimboccare le coperte. Era una cosa che era il suo, veramente, forse uno dei pochi atti d'amore tangibili, oltre quelli che non si sentivano. Stiamo parlando di uomini che non volevano assolutamente coinvolgere emotivamente nelle loro vicende la propria famiglia, in cui la protezione e la tenerezza erano stranamente un'equazione e che raramente avrebbero mostrato le loro difficoltà. La scelta, per esempio, di non portare fisicamente in maniera evidente quelle che potevano essere le conseguenze dell'attentato nasce da questo, portato invece più sul respiro. Il respiro è un altro dei temi centrali della storia, il respirare, il lasciarsi andare. E allora avere quel respiro un pochino più affannato. C'è un solo momento, proprio in quella scena di cui parlavi tu prima, premesso che io ho fatto finta di dormire mille volte pur di essere portato a letto da mio padre, e credo che questo sia uno dei classici di tanti bambini. Però in quella scena c'è un unico momento in cui lui non visto, secondo lui, si tocca la schiena. Perché sente il dolore. Però fa parte di quegli uomini lì il voler andare al di là della difficoltà fisica, il non voler mostrare la caducità. Mentre non si rende conto che il figlio l'ha già non solo vista, ma la sta a modo suo elaborando, scappando in questa favola, come l'hai chiamato tu, che mi sembra una bellissima definizione, scappando nella sua fantasia, scappando nelle varie possibilità che nel frattempo gli adulti non riescono a intercettare, fino a quando questa fantasia non interviene anche direttamente nelle loro vite. Sarà fantasia, sarà realtà, il film continua ad avere uno sguardo dell'infanzia. E nell'infanzia è tutto probabile.